Il Consiglio Intercomunale di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia ha deliberato e approvato a maggioranza il recesso dal Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Foggia 4. Allo stesso tempo è stato avviato l'iter per la costituzione dell'Aro Bt3. Il percorso è tracciato, il cronoprogramma è serrato. Quella denunciata dai tre comuni da tempo è una cattiva gestione da parte della SIA, la Società di Igiene Ambientale del Servizio di Raccolta Rifiuti, notevoli disagi subiti, tanto da rendere necessario il distacco dal Consorzio Bacino Foggia 4. Una volta verificata la situazione diciamo drammatica sia della SIA che non dava più il servizio e anche del Consorzio per via di quello che poi in effetti si sta determinando. Per cui il percorso credo che sia obbligato nell'autodeterminazione dei tre comuni e municipalizzare, fare un unico servizio della raccolta dei rifiuti con la costituzione dell'Aro Bt3 e quindi con l'elezione degli organismi e la gestione unitaria del servizio. Il commissario Grandagliano ci dovrebbe convocare e in quella riunione, in quella seduta dovremmo procedere alla nomina degli organi elettivi, quindi dal Presidente e gli altri organi. Quindi diciamo che se tutto va bene per la settimana prossima o l'altra dovremmo attivare il percorso formativo dell'Aro Bt3. Con il recesso dal Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, i tre centri del costituendo Aro Bt3 si preparano ad offrire e garantire servizi ottimali ai cittadini. Con il passaggio a un altro gestore, cosa cambia in concreto per i cittadini di questi tre comuni? Devono cominciare a riavere i servizi. Noi, le nostre comunità, non hanno più servizi pubblici essenziali, perlomeno da quando ci sono io, è già da un annetto, da un anno e mezzo. I miei colleghi mi dicono anche prima, è una situazione ormai che è arrivata al culmine perché noi non possiamo oltremodo sopportare il fatto di non poter garantire come sindaci i servizi pubblici essenziali che tra l'altro costano e costano tanto alle nostre comunità. Questione prioritaria resta la vicenda occupazionale dei dipendenti della SIA, ma è il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, a tranquillizzare i lavoratori. I lavoratori devono stare tranquilli perché attraverso l'applicazione della clausola sociale, quelli che sono stati gli accordi intercomunali, quelli che sono stati gli accordi davanti alla Prefettura e secondo quelli che sono degli impegni ben precisi anche avvenuti con le orientazioni sindacali, tutti i lavoratori che verranno trasferiti, che fanno parte di questo ARO, saranno regolarmente assunti a tempo indeterminato presso i gestori che man mano si susseguiranno con l'applicazione della clausola sociale, con l'applicazione della clausola risolutiva espressa per far sì che non corriano alcun rischio mantenendo gli stessi livelli retributivi.